Siamo qui nel finale di partito che ha visto affrontarsi il cremastere contro gli FC abusivi di Pescara. Vincitori il cremastere con risultato di 1-0. Siamo qui con il migliore in campo, Bombaci. Bombaci, risultato di 1-0, partita in equilibrio. Cosa mi dici? Partita molto combattuta, stata pesante dopo i primi 20 minuti, però è andata bene anche questa. Questa è la seconda partita consecutiva che vincete. Puntate sicuramente alla vittoria. Ci proveremo. Se ci sono stati degli errori in queste prime due partite, cosa c'è ancora da migliorare? La compattezza. Quindi più compattezza in mezzo al campo. Troppo lunga. Facciamo vedere il premio dell'MVP alle telecamere SK, Cappello Givova e ringraziamo il migliore in campo per il cremastere. Un saluto da Boatemi. Ciao ragazzi.